ciao da bimbo bè ciao bambini urca questo questo è questo questo cuore che dobbiamo colorare è un po difficile questo dai 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 iniziamo subito iniziamo subito colorando perché questo qui è un po difficile e vabbè noi ci proviamo dai come lo facciamo questo cuoricino allora partiamo con un bel giallino qui al centro oh perfetto e poi andiamo con un colore un po più scuro qui ecco facciamo come un arcobaleno dai facciamo come un arcobaleno poi facciamo un colore un pochino più scuro ancora qui oh l'arcobaleno e poi facciamo fammi vedere facciamo ci mettiamo un rossino qui ecco qua wow aspetta aspetta anche questo è ok perfetto e poi andiamo andiamo con un colore qui 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 questo questo qui wow guardate bello bellissimo andiamo avanti andiamo avanti facciamo adesso ci vuole un altro e facciamo facciamo mettiamo ci mettiamo questo dai vediamo un pochino più chiaro vediamo oh perfetto no allora facciamo facciamo così ci mettiamo un un uomo ci mettiamo questo dai aspetta vedere cosa dite pochino più chiaro pochino più chiaro aspetta vediamo no no questo ok così dai no lo facciamo facciamo mettiamoci un po di forse facciamo viola cosa dice mettiamo viola 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 dai bello 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 e invece questo qui lo facciamo guardate questo lo facciamo cambiamo il cuoricino qua lo facciamo sull'azzurrino e poi ci mettiamo un azzurrino un pochino più scuro ok e poi ci mettiamo un blu ancora più scuro ecco oh perfetto guarda che bello e invece questo cuoricino qua lo facciamo ancora così poi ci mettiamo questo giallone dai qui che bello e poi ci mettiamo ci mettiamo questo un rosa dai un rosa va bene va bene va bene facciamo questo qui questo qui lo facciamo questo cuoricino qua azzurrino eh questi due come li facciamo bambini facciamolo allora uno verdino e uno rosso dai rosso questo piccolino qui lo facciamo rosso ecco qua perfetto poi ci facciamo questo qui a quadratino poi ci mettiamo poi ci mettiamo questo qui e poi ci mettiamo questo blu qui perfetto 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 qui ok ok perfetto perfetto stiamo colorando il cori il cuoricino i cuoricini perché sono tantissimi e qua i cuoricini guardo facciamo questo rosa qui poi facciamo un altro rosino qui dai sì sì c'è un po di cuoricini rosine dai qui ecco qua ne facciamo un po in giro poi cambiamo colore eh facciamone un po verdini dai cuoricini verdini qua uno qui oh non va andato andato questo e poi facciamo anche uno qua ecco qua poi ne facciamo un po di cuoricini gialli che è il mio colore preferito qui sì uno qua poi questo grande qui no questo uno qui e uno qua ok poi ne facciamo anche qualcuno rosso sì dai i cuoricini sono rossi mettiamo anche qualcuno rosso questo 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 poi che colore ce li mettiamo e fammi vedere questo lo facciamo questo lo facciamo azzurrino come l'altro cambiamo cambiamo qui e poi facciamo questo chiaro ok perfetto così invece qui questi li facciamo azzurri questi li facciamo scuri qua ok 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 e poi facciamo un pochino più chiari questo ok questo e ancora più chiari in mezzo ecco qua ecco qua ecco qua oh poi andiamo avanti andiamo avanti aspetta che qui noi abbiamo fatto questo non abbiamo colorato ma non lo so sì ok andiamo avanti bambini facciamo qui tac poi facciamo anche qui tac poi facciamo un bello questo questo fucsia 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 Così Perfetto Anche questo Questo lo colpiamo così Ma quanti curicini abbiamo qua? Aspetta che qui non ha preso Ok E poi facciamo questo verdino Dai verdino E questo lo facciamo più scuro Verde più scuro Ok perfetto Quello lo facciamo blu Qui blu Ok Abbiamo ormai finito Wow 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 Andiamo avanti Andiamo avanti che dobbiamo fare altri curicini Dai 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 Questo lo facciamo verde Qui Questo Questo Qua Andiamo veloci Andiamo veloci Andiamo veloci bambini Andiamo veloci che dobbiamo finire Aspetta che facciamo anche un giallone qui Giallone Questo lo facciamo azzurro Oh guarda che belli Wow Cos'è? Cos'è rimasto? È rimasto qualcosa? Questo Questo è rimasto Questo qui da colorare Ecco Oh fammi vedere Abbiamo finito Fammi vedere controllo da vicino Aspetta che controllo da vicino Controllo lo schema Allora qui l'abbiamo fatto 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 il prossimo disegno eh, il prossimo disegno, chissà cosa dobbiamo colorare il prossimo disegno, chissà, chissà, ciao bambini, ciao da Kimbo Bell!